Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è mercoledì 17 novembre 2021, una giornata piuttosto brutta dal punto di vista meteorologico, vedremo dopo le previsioni del tempo, ma comunque dopo la pioggia di stanotte e di ieri sera, vedremo come sono andate le cose, prima di dare un'occhiata ai giornali, passiamo sempre a vedere qual è il santo del giorno e poi le previsioni meteo. Oggi è Santa Elisabetta d'Ungheria, una principessa ungherese di Turinja, dopo la morte del marito, Ludovico IV, entrò nel terzo ordine francescano e si dedicò molto alle opere di carità, pensate, provvedeva ogni giorno a circa 900 poveri, veramente una santa incomiabile, anche perché lo stimolo alla povertà è uno degli indirizzi dati anche al giorno d'oggi da Papa Francesco. E passiamo ora alle previsioni meteo. Vediamo appunto che la mappa della nostra regione è costellata di nubi con pioggia, molte nubi con pioggia sparsa in arrivo sui settori centro orientali, soprattutto nel pomeriggio sera e poi ci sarà anche vento sulle coste, la temperatura è in calo sulla provincia di Pesaro, oscilla tra gli 11 e 13 i gradi. E se avete qualche notizia di allargamenti, di problemi per quanto riguarda il tempo, potrete sempre segnalarceli al numero 338 496 8250, ripeto, 338 496 8250. Bene, a questo punto diamo un'occhiata ai giornali, a partire dalle prime pagine dove vengono sintetizzate le notizie interne sul Corriere Adriatico, si apre appunto con gli effetti della pioggia di ieri sera, è ancora emergenza maltempo, acqua e fango invadono le strade. E poi vediamo ancora gli effetti della sanità, della pandemia, insomma c'è pericolo di entrare in zona gialla, punto interrogativo, il titolo del Corriere Adriatico dice, ma quale zona gialla per ora? Con gli attuali trend un cambio di colore delle marche è improbabile nei prossimi 30 giorni, Acquaroli afferma sotto controllo i ricoveri, non ne siamo ancora a rischio, usiamo però tutte le cautele, eventualmente rimanere in zona bianca dipende esclusivamente da noi, come ci comportiamo, come tuteliamo noi stessi e come tuteliamo gli altri. Le tre notizie a centropagina, scuole annunciate e una serie di lavori, la svolta è green a Pesaro, a Fano finalmente sembra risolto il problema del casellino di Fenile e lo ha annunciato ieri l'assessore Baldelli dopo un incontro con la società Autostrade. Torniamo ancora a Pesaro, nuova questura, l'affare si complica e il sito è un rebus, insomma tra nuova questura e nuovo ospedale ancora le scelte vanno di qua e di là, insomma la staccia ancora non si è fermata. L'ite in casa finisce male, il padre accoltella il figlio, l'alterco in casa marotta per futili motivi, l'uomo è stato arrestato, il giovane per fortuna non è grave. Diamo un'occhiata anche alla prima pagina del resto del Carlino, contagi su, vuol dire che aumentano, riapre il punto tamponi, l'Azur decide di riattivare il drive, stavolta in via Lombardia, Pesaro ne era sprovvista da diversi mesi. La fotonotizia centrale parla di una influencer, si tratta di Tei Giunta, 33enne, è stata censurata perché parla di sesso, insomma Facebook oppure Bluetooth, insomma l'hanno censurata, l'hanno zittita perché forse eccedeva un po' troppo, vedremo l'articolo poi all'interno della pagina. Solleva 160 kg usando solo due dita il record di Marcello Ferri, un pesarese dotato di una forza particolare e poi rompe in udienza senza mascherina un esponente Novax è stato cacciato fuori e ancora la disavventura di un noto chef, si tratta di Alceo, vi ricordate il suo ristorante sul colle Ardizio tra Fano e Pesaro, si ribalta in auto per evitare un monopattino alceo miracolato, esce fuori quasi in leso dalla sua auto. E poi lo sport, Alma Fano ha scelto, Capellacci sarà l'allenatore e l'avesse dopo gli elogi, deve dimostrare di sapere giocare facendo punti, insomma vincendo le partire. Apriamo il giornale all'interno e riprendiamo le notizie dai contagi, i contagi stanno volando, riapre il drive ai tamponi, era stato chiuso ad agosto mantenendo solo Fano e Urbino, entro dicembre il punto sarà allestito non più a Villa Fastigi, ricordate bene, ma in via Lombardia. Fino a quel momento che avesse bisogno di un tampone molecolare dovrà ancora necessariamente rivolgersi a Fano o a Urbino. E a Pesaro c'è anche un boom di classi in quarantena, la domanda da farsi è cosa succederà tra due settimane quando si vedranno gli effetti sugli ospedali di coloro che risultano positivi al giorno d'oggi. Al momento l'urto sembra sia sotto controllo, dopo il balzo di ricoverati di lunedì, ieri c'è stato un lieve calo, 91-2, insomma questo è un po' il resoconto. Intanto però sono stati rilevati in un giorno 226 positivi che fanno salire l'incidenza su 100.000 abitanti da 100,97 a 106,85. Insomma bisogna fare molta molta attenzione. E poi il caso del Novax Roberti. Lamberto Roberti, 68 anni, una persona che si autodefinisce costituzionalista. Prendeva le difese di una persona che doveva comparire davanti al magistrato, voleva presentare un documento, una discolpa, ma non voleva mettersi la mascherina. E' stato prima affermato dalla guardia che è all'ingresso dell'istituto e poi è entrato con forza dal magistrato, gli ha consegnato il memoriale ed è andato via. Era il mio diritto, detto arrivare in aula per depositare la memoria difensiva, non potevano fermarmi. Sono andato davanti al magistrato per rappresentare come giurista, tra virgolette, un mio assistito multato per avere violato il coprifuoco. Attrazione fatale per la vicina, un sessantenne condannato a tre anni di reclusione. L'uomo la pedinava anche quando le portava a spasso il cane, ma la giovane aveva sempre respinto le sue avance, finché una mattina lui è entrato in casa sua e addirittura l'ha aggredita prendendola per il collo. Dunque un'aggressione a sfondo sessuale è accaduta a Montelabate ed è stato condannato a tre anni e quattro mesi. Si tratta di un sessantenne del posto. Insomma era ossessionato da questa signora, da questa donna. Prima scappa dalla comunità e poi dalla questura le fughe di un ragazzino terribile. Pensate, ha solo 13 anni ma era già a capo della baby gang. Alla fine la polizia lo ha ritrovato da alcuni parenti. Ora sarà scelta un'altra struttura per contenerne gli eccessi e i colpi di testa. Ma tra pochi giorni compirà 14 anni e allora la situazione si complica e ogni trasgressione del codice penale ne condizionerà il futuro. In Piazza Redi ora c'è meno paura dato che la baby gang è stata scapitozzata, ovvero è stato un po' messo da parte il capo, quello che dava un po' le direttive. Il ragazzino prima di essere portato in una struttura protetta dormiva addirittura fuori casa. Veramente era un ragazzo molto intraprendente. Padre e madre comunque non riuscivano a contenerne l'esuberanza. Le forze dell'ordine sono state chiamate spesso dai genitori addirittura per difendersi. Un ragazzo, diciamolo così, terribile. E un quindicenne va a scuola ma poi sparisce. Ritrovata dopo molte ore dagli agenti a casa di una sua amica grazie ad allarme lanciato sui social con foto e descrizione della giovane. Era una giovane ospite di una comunità a Fano per famiglie in difficoltà. Non avendo dato informazioni di alcun tipo ha spinto le responsabili della casa di accoglienza a rivolgersi alla polizia di Fano per denunciarne la scomparsa. Soltanto pochi giorni fa due minorenni sono spariti da Pesaro e addirittura sono state trovate a Fano nei pressi della stazione. Sembra che questi colpi di testa delle ragazze specialmente ma anche poi dei ragazzi. Ricordate i due giovani di cui si è parlato anche a livello nazionale che erano spariti per due giorni, avevano girovagato per le marche, avevano dormito alla ghiaccio e appunto sono stati poi ritrovati a Fano. Mi hanno oscurata solo perché parlo di sesso. La protesta di Tei Giunta, sex influencer residente ad Urbino. Instagram le ha disattivato l'account per due volte e lei ora va su YouTube. Non mi spaccio per scienziata, ha dichiarato, sono solo empatica verso temi che molti fanno fatica ad affrontare. E l'empatia è una situazione psicologica, trascendentale, così potremmo definirla, che stabilisce una relazione sublimale tra una persona e l'altra e questa ragazza riusciva ad attuarla. Solleva 160 chili ma con due dita e solo una questione di testa. Il record è di Marcello Ferri, 60 anni di Pantano. Dopo aver tirato su 160 chili, pensate, un quintale e mezzo, più di un quintale e mezzo, con due dita soltanto, Marcello Ferri, 60 anni, pesaresi di Pantano, si è rivolto ai giurati della trasmissione della prima serata di Canale 5, Tussiche Vales, dicendo, uno, quando arriva intorno ai 60 anni, generalmente, tira i remi in barca, ma se ti impegni poi l'età non conta perché è solo una questione di testa. Più che una questione di muscoli è una questione di testa, lo dice appunto Marcello Ferri. Alceo, io miracolato dopo la carambola. Vedete qui la fotografia di Alceo, il noto ristoratore pesarese coinvolto in un pauroso incidente. La sua auto si è ribaltata dopo aver tentato di evitare un monopattino che non si è fermato. Stava procedendo sul lungomare Caboto, in direzione del ponte del Foglia, quando improvvisamente è stato accostato da un monopattino e per evitarlo l'autista ha sterzato il volante. L'auto però, come impazzita, ne ha perso il controllo. Forse c'era la pioggia, il terreno era scivoloso e l'auto si è ribaltata. Insomma, un'avventura piuttosto spiacevole appunto per il ristoratore. E poi c'è un addio a centropagina sul resto del Carlino. Muore a 65 anni uno dei personaggi più popolari di Pesaro. Addio a Fabrizio Tesei, la volpe di talento di Villa Fastigi, imprenditore del mobile e della ristorazione, è stato anche centravanti e dirigente del club locale. Nuova questura, la caserma era già esclusa. I sindacati di polizia la carica dopo l'ultima ipotesi avanzata dal prefetto che vorrebbe che l'edificio fosse realizzato nell'ambito del caserma del monte a Pesaro. Il SIULP, che è il sindacato di polizia, dice quanti errori il SIULP, altro sindacato, ribadisce Villa Marina o Via Cimarosa. Per Marco Lanzi, che è il segretario provinciale del SIULP, il reggimento Pavia, un unicum strategico, ci dissero. Ma lì non c'è alcuna possibilità. Insomma, è una palla che va da una parte e dall'altra e non si ferma mai. Carabinieri con cani antidroga al campus trovato Ascis. Le dosi erano state gettate via nel prato alla vista dei militari. Le verifiche sono mai giornaliere. Il controllo sugli studenti al momento di entrare è puntuale ogni giorno e ogni giorno purtroppo si trovano delle sorprese. E siamo ormai alla pagina di Fano. Al Codma mancano i volontari. Probabile trasferimento a Marotta. La protezione civile avrebbe esaurito le ore mentre i soci del club Mattei chiedono un rimborso. Che cosa è accaduto? È accaduto che per otto mesi i volontari della protezione civile hanno prestato un servizio totalmente gratuito senza alcun rimborso spese al Codma per così regolare l'afflusso dei vaccinandi. Dopo otto mesi, insomma, la situazione cominciava a diventare pesante e alla fine hanno cessato il servizio. Ma in quel momento si è reso conto quanto importante fosse la loro presenza nella centrale dove appunto c'è l'hub per le vaccinazioni. I dirigenti dell'area vasta hanno valutato anche la possibilità di trasferire il centro a Marotta lasciando il Codma dove non c'è possibilità di assistere le persone in attesa, specialmente in questi giorni con il maltempo. Si è attivato però, lo vedremo anche nel Corriere Adriatico, l'assessore regionale Aguzzi, competente per la protezione civile, facendo inserire all'ultimo momento nell'assestamento di bilancio regionale una cifra di 500 mila euro che potrà essere suddivisa tra i volontari della protezione civile e vedremo cosa decideranno i dirigenti della sanità. Assolto badante, non maltrattò quell'anziano, era accusato di avere in più occasioni e alzato le mani contro Tarcisio Manna, il 66enne fanese, molto noto in città, morto annegato nel 2017. L'imputato ha sempre respinto gli addebiti, malgrado i referti medici presentati. La presunta vittima aveva confidato alle sorelle le lesioni subite, però insomma il giudice ha deciso di non prendere decisioni importanti nei suoi confronti. Torna a sapori e aromi d'autunno, il 21 e il 28 novembre torna questa summa dell'esposizione dei migliori prodotti agroalimentari del territorio. Al Codma ci sarà una grande festa, una grande kermesse, circa 80 espositori presenteranno il meglio della produzione autunnale, ci sono veramente tante lecornie, tanti prodotti e quindi sarà possibile fare spese ma anche così girovagare tra le meraviglie della natura che la natura ci offre in questa stagione. Ancora altre notizie, Casellino di Fenile sbloccata l'impasse, l'annuncio dell'assessore regionale Baldelli trovata una soluzione meno impattante in accordo con la sopraintendenza ora via al confronto. E poi un'altra notizia di cronaca, siamo a Marotta, ferisce il figlio con il coltello, padre arrestato, l'abbiamo annunciato nella sintesi della prima pagina. A Urbino la visione ospedale centrica è sbagliata, da Urbino un nuovo studio scientifico di Franci e Renzi su salute, si tratta di Alberto Franci, ordinario di statistica sociale dell'Università di Urbino e di Pietro Renzi, docente di informatica e statistica all'Università di San Marino. Si parla di condizione sociale, presenza di infrastrutture, quante le sorprese, soprattutto se analizza il rapporto tra lo stato di indigenza, di povertà, di certe categorie sociali e quanto poi ha infierito su queste la pandemia, il Covid. Mario Rosati controguidi, per noi di Viva Urbino e PD, il vicesindaco si deve dimettere nel merino dei due gruppi consigliari il risultato di un concorso pubblico. Il centro-sinistra nacque da noi 60 anni fa, lo afferma uno studio, un libro pubblicato da Sanzio Balducci, già ordinario di linguistica italiana all'Università di Urbino. Il professore ha pubblicato un libro nel quale rievoca come e perché nel 1961, proprio a Fossombrone, ci fu l'alleanza Partito Socialista-Democrazia Cristiana, una coalizione allora molto insolita. Diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico. Molte notizie sono già state lette, delle quali abbiamo già parlato. Vediamo come viene ampliata la notizia dell'efficientamento energetico delle scuole. Scuole, la spinta green, più moderne e sicure. Primi lavori a Natale. L'assessore Belloni dice che il Comune investe e risparmierà sui costi di gestione. Alighieri da demolire gli allunni trasferiti solo alla fine dell'anno scolastico. Insomma, ci sono diversi lavori nelle scuole pesaresi. Vediamo che ci sono lavori all'Istituto Comprensivo di Villa San Martino e anche nella Dante Alighieri a Soria, che è da demolire e ricostruire. Segnalateci una piattaforma richieste, guasti e criticità. Il dirigente della provincia Bartoli spiega l'iniziativa per le superiori. Una piattaforma per segnalare le cose che non funzionano. Una bella idea quella della provincia che mette a disposizione degli istituti superiori una piattaforma ai dirigenti scolastici per segnalare le criticità. E anche il Corriere Adriatico parla della nuova questura. Sulla nuova questura la partita si complica e i fondi sono a rischio. Parla parla, bla bla bla, come dice una nota esponente ambientalista, e non si giunge mai alla fine, insomma non si ottengono risultati. Dopo il no a Torraccia e Celletta per la scelta del sito, il tempo stringe, il SIULP un'area baricentrica, il SILP zona Cimarosa o Villa Marina. Nuovo ospedale di Pesaro, Paolini convoca i sindaci, lo richiede il primo cittadino di Monbaroccio, Petrucci. La conferenza dei sindaci di area vasta è il luogo deputato per dibattere sulle questioni sanitarie ritenute nevralgiche, che a livello territoriale, come ad esempio il piano sanitario regionale, costituisce un'esigenza di tutto il territorio. Nella notte acqua e fango invadono le strade, emergenza maltempo, decine le segnalazioni. La situazione più critica nella zona sud di Fano, Torrette, Marotta, oggi chiuse alcune scuole, donna investita. Il maltempo ha causato anche un incidente, si tratta di un incidente che si è verificato, vediamo un attimo, si è verificato in via Fossa Sant'Orso, ne ha fatto le spese una donna di 47 anni, sul posto le pattuglie della polizia locale. Poi un po' in tutto il territorio, ristagni, pioggia, insomma larghe pozzanghere, insomma la pioggia ha infierito parecchio nel territorio. E per quanto riguarda i vaccini, non si parla solo di Covid oggi sui giornali, ma si parla anche di vaccino contro l'influenza. Sono arrivate le dosi anche per gli under 65, si potrà essere vaccinati all'oratorio e le vaccinazioni raddoppiano. Ovviamente si parla di Pesaro, il coordinatore De Santi, oltre 400 in un giorno. Quest'anno il virus si diffonde, i segnali purtroppo ci sono, sono molto molto evidenti. Sulla Valle Foglia, un'area fitness all'aperto in via Branca, al Parco Falcone e Borsellino saranno piantate 30 piante, due progetti paralleli a Montelabate e Osteria Nuova, anche un campo di pallavolo alla Psella. A Urbino Palazzo Gerardi, effetto domino, ex osca come archivio territoriale. Il restauro dell'immobile ex osca e dell'area sterna con fondi del PNRR permetterà di liberare la scuola Pascoli. Si attendono solo i finanziamenti da parte dello Stato attraverso i fondi europei per realizzare quest'opera, lo ha dichiarato il sindaco Maurizio Gambini. A Fano abbiamo la svolta per il nuovo casello, sarà meno impattante, l'assessore regionale Baldelli, supereremo l'impasse lunga 10 anni. E questa infrastruttura è rimasta al palo, dopo che il Ministero dell'Ambiente ha giudicato troppo forte l'impatto ambientale. Ora finalmente si riprende con un progetto ridimensionato. Codma Lab senza protezione civile. Per i fanesi ipotesi vaccino a Mondolfo. Ma è solo un'ipotesi, speriamo insomma che la situazione si risolva perché trasferire tutti quelli che si devono vaccinare a Marotta, a Mondolfo, insomma la situazione si complica sempre di più. E poi con un fondale colorato abbiamo Sapori Euromi che vetrina, torna dopo un anno la Kermesse Enogastronomica. Lucarelli, vendita e turismo, ovvero un'iniziativa che incentiva le vendite da parte degli agricoltori, dei produttori a chilometro zero, ma soprattutto attrae anche turisti perché l'enogastronomia è una delle attrazioni più suadenti diciamo così del turismo anche territoriale fanese. Ospedale, riattivare i 15 letti, lo chiede Fossombrone, cure intermedie, la mozione di Luzzi, di Fratelli d'Italia, approvata con voto unanime in Consiglio Comunale a Fossombrone. E poi per quanto riguarda la Val Cesano, abbiamo la notizia che ci giunge da Marotta, il padre ha coltellato il figlio durante una lite, la sua avversione tagliavo il prosciutto, ha dichiarato. A Senigallia festa nei parchi e parti in casa, fioccano le spiate, ma niente di vieti. Le segnalazioni al sindaco, Massimiliano Olivetti, vengono documentate addirittura con foto dei raduni. Sarebbe inutile, ha dichiarato il primo cittadino, chiudere i giardini, e però intanto si propagano i contagi nelle scuole. Un'altra notizia di Senigallia riguarda la cronaca. Puscher Mondano scattano le manette, aveva 200 grammi di Aschis in casa, nell'abitazione di un cinquantenne senigallese, alcune migliaia di euro in contanti frutti dello spaccio. Insomma, le forze dell'ordine hanno trovato una nuova, una nuova centrale di smistamento della droga. E veniamo allo sport, siamo ormai in conclusione. Vis servono meno complimenti e più punti, un titolo pragmatico, terra-terra, insomma, che non usa sottointesi. Il bottino è vuoto contro le big, nonostante le prestazioni e le occasioni veramente meritevoli dei bianco-rossi. Adesso però inizia la serie di scontri diretti per la salvezza e quindi occorre fare i fatti. È un po' questo il senso dell'articolo. Per quanto riguarda Fano, abbiamo la situazione, vediamo un attimo, la situazione, no, passiamo prima alla Scavolini, alla VL. Scavolini, troppi errori in estate, l'ex patronne sull'ennesima annata sofferta, tutto parte dalle scelte poco felici fatte qualche mese fa. Adesso la stiamo pagando. Insomma, l'ex presidente è deluso, ci vorrebbero un paio di giocatori per risolvere i problemi, ma questi costano e uno solo non basta. Insomma, lo ha dichiarato appunto Scavolini. quando la squadra poi aveva questo nome, erano altri tempi. E per quanto riguarda invece il Fano Calcio, vediamo che cosa ci dice il Corriere Adriatico. Dunque, vediamo un attimo, eccolo, Fano, il mister Capellacci, ormai è stata sancita questa decisione, il Fano a nuovo allenatore, saltato all'ultimo momento l'accordo con Costantino. Oggi dovrebbe arrivare il nuovo tecnico. L'Abruzzese ha affrontato tante volte il Granata. Nel 2017 era ripartito dalla prima categoria. E speriamo che questo nuovo provvedimento possa risollevare le sorti. Sul Corriere Adriatico si parla anche di Vis. La Vis adesso deve tornare a vincere. insomma i titoli si assomigliano tra Corriere e resto del Carlino. Vediamo anche qualche cosa sulla sulla VL. VL verso Cremona dove servono risposte. Molti giocatori devono dimostrare di valere la categoria. Insomma, momenti decisivi per tutte le nostre squadre della provincia. Bene, qui noi ci fermiamo. vi auguro ancora una buona giornata. Vi do appuntamento alla rassegna stampa di domani alle ore 7 mentre altre notizie questa sera al notiziario di Fano TV condotta da Simona Zonghetti. E ancora una buona giornata. Grazie a tutti.